Seggi aperti, nel Regno Unito, per le politiche anticipate, prime elezioni post Brexit. Si vota, dalle 7, alle 22, ora locale, in 650 collegioni nominali, con misure di sicurezza rafforzate, dopo gli attacchi terroristici. I favori dei sondaggi, restano per il Partito Conservatore, di Theresa May, ma i lavuristi, di Iremi Corbina hanno dato segni di ripresa. Alla Camera dei Comuni, uscente i tori, avevano 331 deputati, i labur 232, gli indipendentisti scozzesi del SMP 56, i Lib Demotto.